8 decessi da coronavirus nella giornata di ieri all'ospedale di Sondalo, 5 uomini e 3 donne, ma anche 11 dimissioni, 7 uomini e 4 donne a fronte di 18 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore. Un numero quest'ultimo preoccupante commenta a SST Valtellina e Altolario nel consueto rapporto quotidiano di aggiornamento, se si considera la nostra realtà locale. Se alcuni presidi lombardi registrano un abbassarsi degli accessi al pronto soccorso, in Valtellina infatti la pressione al pronto soccorso è invariata, sottolinea il direttore generale Tommaso Saporito. I cittadini sono chiamati a rispettare le regole del biocontenimento, questo è l'impegno che chiediamo loro, aggiunge il dirigente dell'azienda sociosanitaria territoriale cui fa capo la rete degli ospedali. L'alto numero dei pazienti affetti da coronavirus ricoverati al Morelli, in larghissima maggioranza residenti in provincia di Sondrio e i decessi registrati ogni giorno, obbligano ad attenersi rigidamente alle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio, prosegue Saporito. Non ci sono alternative, questo il suo appello che suona come un monito, riusciremo a superare questa emergenza soltanto con l'impegno di tutti. I dati dell'attività del presidio di Sondalo dal 2 marzo, aggiornati alle 10 di stamane, parlano complessivamente di 316 pazienti ricoverati, 167 dato sostanzialmente stabile da qualche giorno a questa parte, gli attuali degenti, di cui 114 uomini e 53 donne, 92 in totale i dimessi per proseguire il decorso della malattia a casa, 51 uomini e 41 donne, 54 il totale dei deceduti, 42 uomini e 12 donne, 3 i pazienti trasferiti in altri ospedali. Il totale dei tamponi eseguiti è di 731, di cui 336 positivi e 310 negativi, i restanti 85 sono in attesa di esito.